Erano stati arrestati nell'ambito dell'operazione Reset 2, condotta dai carabinieri a Bagheria nel 2015, che aveva messo in luce la mappa del pizzo. Adesso arriva la richiesta di condanna per 17 imputati accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsioni e favoreggiamento. Complessivamente le pene ammontano a quasi un secolo e mezzo di carcere. Il PM ha richiesto 20 anni per Pietro Liga e Giacinto Di Salvo, 12 per Giuseppe Scaduto e Francesco Lombardo, 8 per Gioacchino Mineo e 7 per Nicolò Eucaliptus. 6 anni per Andrea Fortunato Carbone e Francesco Centineo, per Silvestre Girgenti e Umberto Gagliardo, per Francesco Mineo, Onofrio Monreale, Giovanni Trapani, Gioacchino Tutino, Paolo Liga e Giovanni Mezzatesta e 4 per Salvatore Lauricella. Grazie alla denuncia di 36 imprenditori bagheresi che si ribellarono al pizzo, è stato possibile rintracciare i bossi e una cinquantina di estorsioni a cavallo tra gli anni 2003 e 2013. Nel processo si sono costituiti parte civile i comuni di Bagheria, Altavilla Milicia, Ficarazzi e Santa Flavia, il centro studi Piola Torre, Confindustria di Palermo, Addio Pizzo, Confcommercio e Confesercenti.